tutto pronto per la quarta corsa sono in cinque anziani di categoria e al via anche questa una prova sui 1660 metri uno vampiria g font 2 z spritz 4 valdest 5 e zaffiro bezz 6 onni l'est tutti ben allineati dietro la macchina per questa prova senza tanti concorrenti ma di sicura qualità si ritrae zaffiro bezz vampiria g font è la più veloce allo stacco della macchina a mantenere il comando lungo la corda z spritz all'esterno valdest che prova a farsi posto lungo i birilli cerca di serrare sotto z spritz insiste valdest all'esterno riprende in mano vampiria g font e allora il posto non si fa vampiria g font leader nei confronti di z spritz valdest che deve ripiegare lungo la corda ancora onni l'est all'esterno zaffiro bezz che progredisce subito 14 e mezzo per i primi 200 metri di corsa si arriva ai 400 in 30 e mezzo con vampiria g font all'avanguardia nei confronti di z spritz seconda la corda all'esterno sempre zaffiro bezz mentre sembra affacciarsi ora per un attimo z spritz in controllo sull'avanzata esterna dell'allievo di pietro bezzecchi 600 in 46 e mezzo addirittura fino al passaggio avanti alle tribune con vampiria g font che alla fine continua ad andar piano perché zaffiro ha perso un pochettino di tempo e non va subito sulla leader che si è permessa 800 comodissimi in 121 solo 200 metri a borbottare con valdest e poi tutto comodo per vampiria g font che si porta verso il chilometro in vantaggio z spritz chiusa seconda la corda dalla mossa esterna di zaffiro bezz che però la stazione lì prova ora ad avanzare con la dritta 117 7 il chilometro da parte di vampiria g font zaffiro bezz che prova andare all'attacco sposta e fa la seconda pariglia valdest lasciando sempre la retroguardia onni l'est i tre quarti di miglio in 1 32 8 15 1 a dritta di là vampiria g font in vantaggio z spritz che prova a liberarsi per andare all'attacco viene in terza ruota valdest vampiria g font che controlla ancora z spritz che non ha spazio valdest che avanza in terza l'ultima curva passata in 15 e mezzo in vantaggio vampiria g font che prova ad allungare da z spritz che deve partire da ferma all'esterno valdest vampiria g font in vantaggio va di dentro onni l'est vampiria g font che porta a casa il successo per il secondo finiscono in linea onni l'est che ha bucato tutti dentro e z spritz 1 16 e 4 il raguaglio cronometrico 32 la chiusa il successo tattico per vampiria g font e marco stefani mattia ricci al training per la scuderia jumping proprietaria della seianida classic foto che in percorso di testa controlla sin sul palo le offensive degli avversari sul palo sono molto molto vicini onni l'est e z spritz finiti in linea per il secondo con forse una leggera preferenza per onni l'est in open stretch ovviamente lasciamo il verdetto al giudice d'arrivo il successo però netto per vampiria g font in cost to cost marco stefani mattia ricci la scuderia jumping succo 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 succo